Verificare e toccare con mano pro e contro della sanità locale per proporre soluzioni. E questo è l'obiettivo del tuo rispettivo nelle strutture sanitari dell'Asla e Lecce del consigliere regionale Paolo Pagliaro. Stimolato dalle richieste dei cittadini dopo essere stato a Gagliano del Capo presso il presidio territoriale, a distanza di pochi giorni, ha raggiunto l'ospedale di Copertino, il secondo della provincia per numero di accessi. Proprio qui erano state segnalate gravi criticità constatate di recente come l'abbandono di un paziente anziano per ben due giorni e due notti su una barella in corridoio in mancanza di un postoletto. Quell'uomo non c'è più e la condizione disumana in cui è stato costretto a vivere le sue ultime ore è inaccettabile per un paese civile. Nella visita il consigliere ha potuto constatare il grande spirito di servizio e sacrificio e il tenace attaccamento all'ospedale di Copertino da parte del personale. ha anche assaggiato come sempre nel corso delle sue ispezioni il cibo che viene servito ai pazienti constatandone la buona qualità. Continua il nostro tour rispettivo nelle strutture sanitarie della provincia di Lecce, oggi siamo stati qui a Copertino e abbiamo verificato alcune esigenze, evidenziando anche alcune criticità, ma anche aspetti positivi che ci hanno colpito, in particolar modo lo spirito di servizio, l'abnegazione, il sacrificio che il personale medico e il personale paramedico, sempre difficoltà per la carenza proprio di personale, mettono al servizio di questo ospedale, di questa comunità e dei pazienti. Diverse le criticità evidenziate nel corso dell'ispezione, tutti i reparti necessitano di maggiore personale, medici, infermieri, os. Nel pronto soccorso i pazienti restano accampati in spazi assolutamente insufficienti e inadeguati per giorni e notti in condizioni disumane. Occorrono altre barelle per accogliere i pazienti, anziché farli stazionare a bordo dell'ambulanza all'ingresso. Servirebbero un ecografo e almeno due ventilatori polmonari portati l'insostituzione di quelli rotti. Il pronto soccorso è sovraccaricato perché i mezzi del 118, se non trovano posto a Lecce, convergono su Copertino come se fosse un ospedale complesso, dotato di terapia intensiva e attrezzato per tutte le urgenze, mentre si tratta di un ospedale di base. Alla struttura di Copertino accedono pazienti con patologie che non possono essere curate in loco. La media di accesso è di circa 50 persone al giorno a cui si aggiungono i 10-15 del giorno precedente in attesa ancora di ricovero. Il personale è sotto stress e nonostante l'impegno quasi eroico rischia di commettere errori. Non è migliore la situazione in radiologia, dove occorrono un ATAC, un RX telecomandato e almeno due ecografi. Il reparto di osservazione breve e intensiva, OB, potrebbe diventare reparto di terapia intensiva post-operatoria, ma mancano i parametri per l'accreditamento, pur essendoci macchinari. Cardiologia, invece, è un reparto che funziona molto bene anche grazie all'alta professionalità di medici e paramedici, ma si avverte comunque l'esigenza di un'apparecchiatura per il test cardiopolmonare. Nell'unità di chirurgia semplice e nella sala operatoria non possono essere eseguiti interventi complessi, ma solo per azioni di ortopedia, ernia inguinale e appendiciti, dal momento che non ci sono terapia intensiva e rianimazione. Il paradosso è che sono state donate da anni apparecchiature, rimaste ancora inutilizzate per mancanza di personale e spazi adeguati. L'ambulatorio di Oculistica, un'isola felice nell'ambito della programmazione regionale, è stato individuato come polo di riferimento per l'asle di Lecce, per la diagnosi e la cura della maculopatia. Ad ortopedia, solo uno dei quattro medici inorganico è reperibile di notte, quindi in sua assenza il paziente deve essere trasferito a Lecce con ambulanza del pronto soccorso e infermieri a bordo. La penuria di personale è cronica con sovraccarico di lavoro sull'unico OSS in servizio, su cui grava il compito di accompagnare i pazienti nei reparti di diegenza e di portare i campioni in laboratorio. La somma di tutte queste criticità riconducibili all'insufficienza di camici bianchi e verdi e la difficoltà strutturale di sostenere la mole di lavoro determina il rischio di esaurimento per il personale in servizio e inefficienze che si ripercuotono sui pazienti. Resta l'interrogativo sul futuro dell'ospedale di Copertino, che dovrebbe invece diventare un punto di riferimento all'interno della rete sanitaria provinciale, anche in ragione del suo ampio bacino di utenza. Di tutto questo il consigliere regionale Pagliaro chiederà conto ai vertici della sanità regionale e locale nell'audizione di cui farà subito richiesta in Commissione Sanità. Porteremo queste segnalazioni, queste esigenze in un'audizione che chiederemo in Commissione Sanità e ci auguriamo che possa avere dei riscontri e delle risposte chiare. Il nostro intendimento è questo, al servizio del territorio, al servizio dei cittadini.